Cos'è la soprevidenza? Prima di tutto un centro tecnico di previdenza e assistenza complementare, il centro nazionale, quindi noi non siamo rappresentativi né dei fondi né delle casse di assistenza, ma facciamo un servizio da 30 anni a questa parte, nei loro confronti, per analizzare tutte le questioni di carattere tecnico. In questo contesto stiamo dagli ultimi anni particolarmente osservando anche le tematiche degli investimenti, che sono ovviamente alla base dell'attività dell'una e dell'altra tipologia di enti, e sugli investimenti negli ultimi anni stiamo affrontando anche le tematiche degli investimenti alternativi. In questo contesto tra gli investimenti alternativi ovviamente molto importanti gli investimenti in infrastrutture sociali, con gli amici di Valore lo stiamo affrontando da molto tempo, infrastrutture sociali per noi sono fondamentali non solo per i risultati economici che riescono a dare agli enti che investono in questa tipologia di asset, ma anche perché si corredono strettamente proprio l'attività di enti previdenziali e casse professionali. Le casse di assistenza. Ovviamente il mio lapsus era automatico, anche le casse professionali sono fortemente impegnate sulle stesse tematiche. Allora che dire, perché infrastrutture sociali? Perché rispondono a un'esigenza del Paese e quando parlo di infrastrutture sociali penso alle strutture sanitarie, penso alle strutture per gli anziani, le cosiddette RSA che si possono declinare in varie tipologie. Penso anche sul versante opposto dei giovani agli studentati, che sono un'altra esigenza del nostro Paese. Sono investimenti molto interessanti con veicoli diversi che possono essere fondi immobiliari, possono essere dei SIF, non è molto significativa la tipologia, ciascuno può scegliere, ma sono i risultati che contano. Interventi importanti nell'economia reale per quanto riguarda il Paese, interventi che danno un risultato economico stabile e continuo nel tempo e quindi direi una di quelle operazioni assolutamente win-win, come direbbe qualcuno, per investitore e per soggetti che ne beneficiano. In questo Paese l'investimento principe per molti anni è stato da un lato il titolo di Stato, che era un investimento semplice ma ormai non si può più sedersi accanto al debito pubblico e aspettare che le cedole vengano staccate. Dall'altro l'investimento immobiliare nel senso tradizionale, quindi sono investimenti classici che sono sicuramente ancora importanti sia per gli enti di previdenza complementare sia per le casse professionali ovviamente, ma bisogna accompagnarne degli altri che diano dei risultati economici e che, questo è un dato molto significativo, fermo restando che gli enti previdenziali di primo e di secondo pilastro devono assolvere prima di tutto la loro missione, dare delle pensioni, possono anche andare a dare dei benefici importanti per il Paese intervenendo su quella che con un'alloguzione un po' abusata si chiama appunto l'economia reale.